Adesso ragazzi, era già ufficiale da un po' di tempo, però adesso è inciso nella storia Siamo campioni d'Italia per la ventesima volta nella nostra storia Io non so, non so veramente ragazzi, di solito io un minimo studio o comunque vi faccio un po' all'interno della mia testa Cosa dire, cioè comincio a pensare prima di registrare un video cosa dire, cosa fare, cosa non dire Oggi no ragazzi, oggi no, oggi non mi va di seguire un ordine, dico quello che mi passa per la testa Intanto ragazzi, so che non sembra ma la mia felicità è immensa Cioè ragazzi, veramente non mi aspettavo quest'anno soprattutto di vedere l'Inter alzare per la ventesima volta nella sua storia lo scudetto Forse perché comunque secondo me da un punto di vista proprio di squadra e di qualità delle rose delle altre squadre Vedevo un campionato molto equilibrato Da una parte vedevo il Napoli che ripeto, nonostante abbia fatto un campionato disastroso Ricordiamo che ci erano i campioni d'Italia C'era una Juve che secondo me quest'anno era molto accreditata per la vittoria Idem il Milan e poi c'erano altre squadre che potevano insidiarsi da un momento all'altro Ragazzi, io già alla decima giornata o più o meno comunque quando c'è stato il derby contro il Milan e vinto 5-1 Anzi, ciao Ugini, ci tengo a salutarvi Io già alla ragazzi l'avevo capito che non c'era nulla Cioè ragazzi non c'era nulla da fare per le altre squadre L'unica volta in cui ho avuto un po' di timore è stata quella Juventus Che per una giornata sale in testa e erano già pronti con i coriandoli Già i juventini Quando avevano una sola giornata sono stati i primi in campionato Pensavano già, non lo so Dio, si stavano già casando Vabbè, diciamo che questa euforia è durata molto poco Però ragazzi per me, a parte per un po', per un paio di partite la Juventus Per il resto ragazzi non c'è stata partita Il Milan non è mai entrato, il Napoli vabbè, non ne parliamo La Juventus è durata tre giornate e poi di nuovo è riscesa Perché ragazzi, ripeto, quest'anno non ce n'era per nessuno Ragazzi, io faccio un breve recap sulla squadra, no? Poi ovviamente usciranno le pagelle di fine, di tutto il campionato Ovviamente di tutta la stagione Quando si giocherà l'ultima giornata Io ovviamente ragazzi, vabbè, partiamo dai portieri Sommer comunque, ragazzi, ripeto Anche se oggi nel gol ha fatto, secondo me, una mezza cavolata Ma ripeto, ragazzi, non sto neanche parlando della partita E non mi interessa parlarne Sommer sicuramente un ottimo portiere Non so se l'Inter il prossimo anno prenderà un titolare Si parlava di Bento Però ripeto, sicuramente Sommer un ottimo portiere Tantissimi miscite Anche e soprattutto, grazie a merito alla nostra difesa Veramente una muraglia cinese Audero qualche partitina l'ha fatta Mentre Di Gennaro, ragazzi, non ha mai giocato La difesa, ragazzi, che dire Per me il reparto migliore di questa stagione Sì, l'attacco, ok, ragazzi Ma la difesa quest'anno, qualcosa di clamoroso Partendo dalla panchina Con gente come De Vraie e Bissek Passando poi titolari come Bastoni Acerbi Pavard Anche Darmiane Che spesso ha fatto il terzo di difesa Gli esterni con Dimash e Carlos Augusto Che è veramente, ragazzi, qualcosa di clamoroso Sulla destra Darmiane Che spesso è stato favorito Con Dumfries Che quest'anno ha avuto un calo Anche se oggi comunque Sono contento per lui Se è toltre lo sfizzero il gol Adesso in tutto questo Stanno intervistando Akan Cialanoglu Quindi, ripeto Anche Dumfries Darmiane sulla destra Il centrocampo, ragazzi Con Akan Barella Mkhitaryan Frattesi E poi Aslani Klassen Sì, ragazzi Cioè, clamoroso Per non parlare che il prossimo anno Avremo anche Zielinski a centrocampo In attacco Lautaro, ragazzi Il capitano Clamoroso Turam Idem Ragazzi Ha avuto un apporto al campionato italiano Che nessuno si aspettava Negli interisti Né, quantomeno I tivosi di altre squadre Nessuno, ragazzi Si sarebbe aspettato Una cosa del genere Da parte di Turam 13 gol E 6 assist Stiamo parlando, ragazzi Ha Come si dice Ha aiutato la squadra In 20 gol Cioè, ragazzi 20 gol 20 gol in campionato Sono di Turam Clamoroso Sanchez Qualcosina l'ha fatto Arrado vicine Ma anche se, ripeto Sicuramente Molto Più sotto tono Rispetto a Lautaro e Turam Molto probabilmente Anzi Senza il forse Il prossimo anno Arrivrà a Taremi Non so se l'Inter Andrà a investire Su altri attaccanti Ripeto Piano piano Dovrebbe in tutto questo Tornare anche Correa Dal Marsiglia Torna anche Valentin Carboni Che quest'anno col Monza Ha fatto un'ottima stagione Quindi attenzione Anche a Valentin Carboni Come quinto attaccante Poi, ragazzi Ci tengo a Fare un appello All'artefice Di questo Di questo campionato Che è Simone Inzaghi Io spero che tutti quelli Che l'hanno giudicato E che dicevano Inzaghi Out Due anni fa Spero Abbiamo cambiato idea Non voglio più sentire Dire nulla Ha avuto bisogno Di una stagione Ragazzi Di una stagione Di una stagione Per carburare In tutto questo Ragazzi Nonostante il primo anno All'Inter Non abbia fatto Il devasto In campionato Ragazzi Ricordiamoci che In nessun anno Con l'Inter Ci hanno fatto finire Il campionato Con zero titoli Mai 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 E mai A differenza Di qualche altra squadra Quindi ragazzi Invece che giudicare Invece che giudicare Siamo Consapevoli Di ciò che ha fatto Inzaghi Ringraziamolo Ha ragazzi Inventato Tanto 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 Ragazzi Partiamo Con il fatto Che Ha fatto diventare Calciatori Per me Normali Fenomeni Fuori classe In questi ultimi due anni Acerbi Che è stato preso Per sostituirlo Come screener A zero Nessuno O forse per due o tre milioni Non mi ricordo Ma comunque pochissimo Tutti subito a dire Oddio oddio Acerbi l'ha fatto diventare Un penale Perché ragazzi Sì ok I giocatori Se hanno qualità Ce li hanno Però ragazzi Un giocatore come Acerbi Che ha sempre fatto Delle stagioni normalissime Soprattutto l'anno scorso Quest'anno pure Ma l'anno scorso Soprattutto ragazzi Ha fatto una stagione clamorosa Per me Acerbi Non avesse avuto 36 anni L'anno scorso Ma ne avessi avuti 27-28 Minimo valeva 60-70 milioni Per la stagione che ha fatto Ovviamente ragazzi L'età Va Contro di lui Ma ragazzi C'è Un giocatore come Acerbi A 27-28 anni Valeva 70-80 milioni Cioè Ai livelli di Van Dijk Ai tempi d'oro Quindi ragazzi C'è di cosa stiamo parlando Per non parlare Che ha inventato uno Come c'erano uno Da regista Che ricordiamocelo ragazzi Se ne è andato Brozovic Se ne è andato Brozovic Tutti a piangere Tutti a piangere Perché veramente Brozovic Anche io ovviamente ragazzi Perché Brozovic era Il giocatore imprescindibile Per l'Inter Il giocatore che se mancava lui Titolare L'Inter non giocava Perché poi Prendeva il suo posto Aslani Che ancora era molto acerbo Ora Aslani Con il passare del tempo Sta sempre prendendo più Di mistichezza Con il ruolo Però ragazzi Ha inventato uno Come c'erano uno Che ha sempre giocato Da mezzala Come regista Quindi Chapeau a Inzaghi Che tra l'altro Si è messo anche a piangere Durante la premiazione Stava quasi per far piangere Anche me Sono felicissimo Ragazzi E nulla Io ovviamente vi invito A lasciare un bel like Sotto al video Ragazzi Qua per forza Tantissimi mi piace E nulla Ragazzi Vi invito Vi invito Ad iscrivetevi al canale Ad attivare la campellina In descrizione Vi lascio il mio profilo Instagram Mi raccomando Seguitemi Noi ci vediamo Con un prossimo video E sempre Forza Inter